A terra, ah cazzo mi ha tirato giù anche la terra. Una terra. Bravo, bravo, bravo. Ce n'è altro da confermare dietro eh. Guardate che è qua da confermare questo. Sono due da confermare. Tiramolo giù uno. Bravo, bravissimo. Tiriamo giù l'altro. Ce l'è dietro, ce l'è dietro. E' lì sopra l'altro eh. Sto arrestando, sto arrestando. E' lì, è lì, è lì. C'è qualcuno che sta parlando da sotto ragazzi. Veloci. No, cazzo, è un altro team, è un altro team, è un altro team. A me non sono due. Attenzione, attenzione. Mi servono i colpi medici. Stavo proprio... Una terra. Ok, l'altro è morto. Prendo un altro qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto. Visto. Andato, andato, andato. Bravi, bravi, bravi. Fatemi prendere qualcosa, bisogna qualcosa. Prendo questo, non c'è più. Sono andato, vabbè, prendo altro. Ci stanno i succhi, ci stanno i succhi. Ok, l'ho visto, l'ho visto. Prendo uno, stanno sparando ancora ragazzi. E' là sotto, là sotto, là sotto. 植 ket 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 eh eh né. mesures ho avuto. La scusica di provincia. De una Judith me biblicals le mie di te animation. Il pessoas durano hanno avuto a trovare cosa uguale su saga. Oh. respecting a diminish con tutti. A�.